Grazie a tutti. La nottrice in corsia 4 Claudia Aufnagel ha realizzato il nuovo record della manifestazione in 2.14.11. La nottrice in corsia 4 Claudia Aufnagel ha realizzato il nuovo record della manifestazione in corsia 4 Claudia Aufnagel. Chiediamo alle tre atlete a podio di 200 Farfalla, Pinarello Martina, Fontana Anna e Aufnagel Claudia di rimanere in postazione per la premiazione che avrà subito a seguire al termine di questa serie. Grazie. 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 Grazie.